Preoccupazione in Val di Sangro dopo l'arresto dei vertici della Blutec accusati della sparizione di 16 milioni di euro destinati allo sviluppo dell'azienda di Termini Imerese. L'azienda ha uno stabilimento anche ad Atessa in Val di Sangro e recentemente è assunto alla denominazione di Ingegneria Italia ma è guidata dal Management Blutec. La vicenda degli arresti del Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Ginatte dell'amministratore delegato Cosimo di Cursi ha creato scompiglio tra i lavoratori e rappresentanti sindacali abruzzesi. La Blutec ha stabilimenti in diverse parti d'Italia, la società costituita nel 2014 ha sede legale a Pescara. Romeo Pasquarelli, responsabile lavoro privato OSB Abruzzo, mostra tutta la preoccupazione degli oltre 220 lavoratori dello stabilimento di Atessa. Diciamo che la maggior preoccupazione dipende dal fatto che possa bloccarsi la trattativa che era in atto per la cessione dello stabilimento in quanto la realtà produttiva del sito di Val di Sangro, quindi di Ingegneria Italia, è molto ma molto diversa da quella che è Termini Imerese. Lì c'è un progetto di reindustrializzazione, qui c'è una produzione piena, quindi un eventuale acquirente ha una visione del futuro totalmente diversa da quella che è la situazione a Termini Imerese. C'è stata l'assemblea dei lavoratori, cosa è stato deciso? Hanno deciso tra di loro a gennaio di sospendere momentaneamente, di dare la propria disponibilità di fronte a questa trattativa con MA. Però ogni mese devono minacciare di riprendere questa trattativa per poter vedersi pagati e quindi retribuiti per il lavoro già svolto. Questa mensilità è anche particolare perché loro devono percepire anche il premio di produzione e quindi hanno deciso che venerdì mattina entro le 10, se non ci sarà l'erogazione di questi emulenti, di questi stipendi, riprenderanno la battaglia che avevano sospeso nel mese di gennaio. Parliamo allora con i lavoratori. L'azienda vi ha comunicato qualcosa? L'azienda ha chiamato i rappresentanti per comunicare la venuta della Guardia di Finanza e tutto quello che è successo ieri mattina. Però l'attività produttiva va avanti, infatti ha detto che dobbiamo pensare solo alla produzione. Che cosa produce la BluTech? Produciamo componenti per il telaio del Ducato e alcune versioni particolari, tra cui il metano, alcuni allestimenti particolari, diciamo, che la Sevele non ha tempo di produrre. Una vicenda complicata dunque anche alla luce degli arresti. I sindacati tornano a chiedere un tapolo al Ministero. Grazie a tutti.